molti sono i religiosi che si dedicano alla descrizione della cultura e della religione india. Fra gli altri Bernardino de Sahagun è un uomo molto attento alle abitudini religiose in particolare. Questo qua pensate che insegnava latino ai figli dei nobili azzechi e ha scritto i 12 volumi della storia generale delle cose della Nuova Spagna in Nahuatl, la lingua locale, in una prima battuta. Secondo Bernardino de Sahagun l'anno liturgico degli azzechi è diviso in 18 mesi, ciascuno di 20 giorni. Come si svolgeva il culto all'interno di questi mesi? Scrive Sahagun si facevano sacrifici umani, nel primo mese venivano sacrificati molti bambini, nel secondo uccidevano e scuogliavano molti schiavi e prigionieri, nel terzo uccidevano molti bambini e quelli che si erano vestiti con la pelle dei morti scuogliati, perché questa era l'abitudine, dopo averli scuogliati prendevano questa pelle e ci si investivano e stavano così fino al prossimo mese con la stessa pelle, se li toglievano. A volte i sacerdoti mangiavano il cuore dei sacrificati e anche si lasciavano crescere i capelli unti con il sangue degli uccisi. Un altro frate, questo molto famoso, che si chiama Toribio de Benavente, che arriva nel 23 in Messico, questo vive poverissimo, dormiva per terra, non aveva neanche i sandali e appunto gli indio lo chiamavano motolinia, cioè colui che è povero. Questo frate, evidentemente, come anticipando le obiezioni che sarebbero state fatte cinque secoli dopo, cioè più o meno ai nostri giorni, quando alcuni noti antropologi americani arriveranno a dire che coloro che erano sacrificati in realtà erano orgogliosi di esserlo, perché sapevano di partecipare a questa ritualità che avrebbe prolungato la vita del mondo consentendo al sole di brillare. Sentite cosa scrive motolinia. E nessuno creda che quanti venivano sacrificati lo facessero liberamente, ma costretti dalla forza e avendo molta coscienza della morte e del suo dolore spaventoso. Alcuni dei sacrificati venivano scuoiati, lo dice anche lui, lo dice anche motolinia, e i sacerdoti si rivestivano di quelle pelli, poi ballavano con quello spaventoso vestito. Da queste descrizioni che arrivano in Europa, molti anche nelle università, certo le università erano tutti in mano ai religiosi, ma molti si interrogano sul fatto che questi indio avessero no un'anima, perché le descrizioni che arrivano sono talmente spaventose che non si poteva neanche credere che queste persone avessero un'anima.